A Delano è ormai clima di terrore fra i commercianti, quattro furti in un mese sono troppi, un bollettino di guerra preoccupante, uno stato d'animo fra i commercianti che può essere rappresentato in maniera emblematica dalla reazione dei proprietari dell'ultimo negozio preso di mira, walking di via Catania. Svegliati dal boato della vetrata in Frentumi, i proprietari si sono affacciati da balcone ed hanno lanciato vasi contro i malviventi, mentre svaliggiavano il loro negozio di abbigliamento e calzature. È accaduto alle 4 della notte, a pochi passi dal centro cittadino e dalla caserma dei carabinieri. Quattro balordi incappucciati hanno assaltato walking, un negozio di abbigliamento e calzature. Prima hanno forzato e spostato di qualche metro un'auto che era parcheggiata davanti all'esercizio commerciale, quindi hanno lanciato con violenza marcia indietro una Fiat Stilo Station Wagon contro la vetrata che è venuta giù al secondo tentativo. Come si vede benissimo dalle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza creato il Varco, i delinquenti hanno fatto razzie dei capi di abbigliamento. Nel frattempo si sono svegliati appunto i proprietari del negozio che abitano ai piani superiori. Subito hanno capito cosa stesse accadendo e pertanto è partita la pioggia di vasi contro i ladi impegnati a caricare la loro auto di vestiti arraffati nel negozio. Alcuni vasi di fiori hanno colpito alla schiena i banditi i quali si sono subito allontanati per evitare il fitto lancio dai balconi, tuttavia sono riusciti a portare via una notevole quantità di capi di abbigliamento, seminando anche vestiti per strada durante la fuga. Ma i danni sarebbero stati maggiori senza la reazione dei titolari. Ancora da quantificare il valore della merce rubata, il tutto è durato meno di un minuto e il film della spaccata, come detto, è stato interamente registrato dal sistema di videosorveglianza del negozio. Immagini ora al baglio degli inquirenti. Grande l'amarezza di Nicola Sant'Angelo, il titolare di Walking che ha i nostri microfoni racconta che alle 4 sono stati chiamati carabinieri e polizia ma erano senza mezzi e sono giunti sul posto solo dopo le 7.